E' buono questo lancio, è buona anche la recezione Che bravo E' bravo eh questo bambino Ah peccato, rimbalzato nelle mani ed ho finito per dare un uovo Ma abbiamo perso l'ultimo uovo del sole Qua siamo già a una bella distanza Forza Natalia E' buono, e quanto siamo? 9 metri, 9 metri Molto bene Allora prossima coppia Arnellino e Fabrizio Livro E' buono ancora, però siamo di 9 su di 9, giusto? Sempre 9 perché c'è stato quel passettino Quindi sempre ruove, allora ruove salvo Si va sui 10 allora Occhio alla zona schizzi, occhio attenzione Eccolo, l'ha preso Migliorato forse 11, 2 metri in più, buonissimo 11 metri, qua siamo a un'ottima distanza E' buono attenzione Ah peccato lancioporto, un applauso per Natalia Brava Grazie a tutti